Ciao ragazzi, consiglio velocissimo, velocissimo, velocissimo Quando fate un'inserzione mi raccomando rallento Quando fate un'inserzione mi raccomando non spuntate mai pagamento immediato questo è da folli vuol dire non vendere una mazza quando fate le inserzioni c'è la spunta richiedi pagamento immediato tramite Paypal vuol dire che questa persona se non ha Paypal e se non ha soldi su Paypal non compra se ha Paypal si sente obbligato subito a pagare oh la madonna i veti da sette giorni di tempo se ha un bonifico bancario non te lo comprerà mai ok cosa? altri metri di pagamento non te lo comprerà mai perché questa funzione cosa dice? fino a quando tu non concludi il pagamento l'oggetto rimane disponibile vi date un'ammazza con la bottiglia come facevano a Giovanni e Giacomo pam 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 la stessa cosa non mettete mai la spunta ok? quella è dannosa si fa solo ed esclusivamente quando ci sono situazioni particolari e l'ultimo oggetto se me lo togli dal mio banco mi crei problemi con i clienti ma deve essere una situazione molto ma molto ma molto ma molto ma molto ma molto ma molto rara mi raccomando ho visto alcune situazioni ho gestito un paio di clienti ultimamente che avevano quasi 150 inserzioni con questa cosa e questo blocca ma blocca veramente le vendite non ti permette di vendere cioè spezza le gambe al cliente oh pagami se no l'oggetto non te lo do va cagare è la stessa cosa ok ragazzi velocissimo però importantissimo alla prossima e mi raccomando ragazzi togliete il pagamento immediato se no ciao da Max grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti